Bella a tutti ragazzi, ben ritornati ancora una volta! Come avrete letto, oggi siamo qua e siamo ritornati con i Minecraft Mems In cui vedremo dei video e vi farò vedere Allora, iniziamo con il primo video Aspetta Sedia Minecraft 2 La modalità La modalità crime Sunt la versione di YouTube Sabia È un ruolo E un ruolo E un ruolo I Grazie a tutti. Dai, no, sti ucci durano troppo però, cioè, un per cento di velocità, cioè, è come il di FIFA 16 se tu non ho un Xbox One, e l'ultimo era che hanno raccolto la cobblestone, ma dobbiamo continuare, perché? E incontra il Creeper, guarda che sfigato! Ok, ci sono questi simili qui, attiva un po' di reticol, la fine che succede? Dai, stanno ballando! Un Creeper to be continued, altro continua con lo scheletro, continua finale con il Creeper di nuovo! Vabbò, mi l'avevano detto, Fortnite e Minecraft, eh dai, povero Luigi, c'è, c'è, c'è un villaggio! Vabbò, comunque, ricominciamo, ok, vediamo... Oh, man, guarda... Shining! No, non sono qua a guardare un filmato! No, no, distruggilo! Distruggilo! Ok... E' entrato in questo universo e... Ma che... Ah! Mi la ricordo questa, mi ricordo che era una canzone famosa di Overwatch... I have an idea... What's your idea? You should be... You should be a pet now or to block... I'm not gonna be any kind of a blocker... We ended up to set all our minds... Lightning is what I live for... Ok... Finito! Ok, ma adesso... I creeper... I creeper... Ritornano... Guarda, questa versione è il creeper... Il gatto... Ed è morto! No, l'ha schiacciato! Guarda! Ma qua non pensa niente... Fa schifo quel tipo... E... Ok... Sono già finiti tutti i meme che avevo... Ma... Era troppo... Allora... Se volete posso far... Posso... Che vogliamo fare... Per allungare un po' la puntata... Visto che... È finita... Beh... Farvi unire un prova a non ridere normale... Con... Farvi fare un prova a non ridere normale... Ma... Eh... Sì... Poi... Beh... Ricarico questo video... Ok... Fortnite... E Nintendo 3DS... Ma... Sembrano quella della... Della... Water... Normalmente... Incontro una ragazza... ... I want a contest! I want a contest! Congratulations man! ok continuiamo con il prossimo rubare un panino in stile smash bros i versi del gatto si fa la foto del me guarda che sfigato red dead redemption 2 ok hanno una gara e 1 ma che sta succedendo marge dai no è troppo ok questo è tutto dal vostro stefano questo sono stato un po' di compilation e vi dico che ve ne usciranno altre quindi per questo è tutto ciao ragazzi